Ragazzi, non sapete che soddisfazione a distanza di un giorno dal video precedente mi ha riscritto Roberto, quello che voleva diventare il batterista più veloce del mondo. Sono contento, gli ho aperto la mente, è una soddisfazione enorme. Infatti ha cominciato a prendere qualche suo disco, non jazz, perché del jazz non gliene frega niente e va benissimo e ha cominciato a capire come muovere la mano destra sulla i-hat, la sinistra sul rullante e un piede sulla cassa e ha cominciato a fare i primi gruvettini, che bello, finalmente, anzi adesso addirittura esagerato adesso il pad non lo vuole neanche più vedere e non vuole più studiare neanche un rudimento. No, adesso, alla Madonna, non esagerare, quelli devi farli sempre, tutti i giorni, solo che invece di farli tre ore col sangue che ti esce dalle bacchette, studia mezz'ora e poi un'ora accompagnati a un disco, come ebbi detto in un altro video. Accompagnare i dischi, sviluppare il senso musicale, oltre che tecnico. Io ho anche detto, guarda, non diventare il batterista più veloce del mondo, fai come me. Il mio obiettivo adesso, anche se ho un'altra età rispetto alla sua, sarebbe quello di diventare il batterista più lento del mondo. Però ogni nota che metto su un piatto, su un tamburo, deve avere il peso specifico di tutto il compendio tecnico e musicale della batteria di un secolo di vita. La mia soddisfazione batteristica, e già sono su quella strada perché, come ho già detto, non studiando un cazzo, fra poco i paradideli io li farò al massimo a 18 di metronomo, è quella di diventare un distillato di batterista. Sul piatto faccio tre note al minuto e il bassista è felice, e il trombettista è felice. E ogni tanto faccio sul rullante, il pianista gode con la bava alla bocca. Ecco, io voglio diventare il batterista più lento del mondo. Facciamo a gara, chi riesce a suonare più lento degli altri, ma con un'energia e un'espressione e un trasporto insuperabili, ha vinto. È il mio batterista preferito.